La partita a Montilla sarà decisiva, comunque fino alla fine ce la giocheremo punto a punto e sarà la partita che deciderà il campionato. Nonostante che non arrivi ancora il risponso della gara contro il Domicella, restano tre i punti di vantaggio sulla squadra di mister Daniese. Secondo te, il centro storico ormai è condannato ai play-off con la sorpresa Bellidum, nel caso in cui la Caluccese andrà in promozione dalla porta principale, diamolo in bocca al lupo ai cugini del centro storico che hanno tutte le carte regola per guadagnarsi il posto in promozione dalla porta di servizio. Sicuramente sia il centro storico che Bellidum sono le sorprese del campionato, stanno facendo un campionato al di sopra delle aspettative, è ovvio che si giocheranno i play-off e sicuramente il centro storico con la squadra al completo sarà un osso duro per tutti. Sì, sì, assolutamente. La partita l'abbiamo preparata nella settimana, oltretutto dedichiamo questa vittoria a Daniele Kunzo che ha avuto problemi familiari e non è potuto essere dei nostri in questa settimana. Daniele Kunzo, match winner del match di andata grazie al gol che ha sbloccato poi il punteggio e poi Fabio Cesar raddoppiato su quella splendida punizione, come abbiamo detto anche in telecronica. Quindi, Gerno Giannasca, c'è il monstro Militum Dominical Roca, partita sulla carta scontata ma nel calcio nulla è impossibile. Assolutamente, non è una partita scontata anche perché il Lions Militum deve salvarsi, verrà qui a vendere caro la pelle, sarà una partita che dovremo prendere con le molle perché anche all'andata siamo stati in svantaggio addirittura di due gol e poi l'abbiamo ripresa all'ultimo minuto e vinciamo con un fior dell'isi proprio allo scadere.